Ciao, sono Marco e nel video di oggi andremo a vedere quelle che sono altre risorse in Elementor. Abbiamo fatto nei video precedenti un po' tutta una panoramica di quello che è il sito di Elementor, ancora prima di iniziare ad utilizzare proprio il plugin, per capire un pochettino come questo plugin totalmente rivoluzionario che grazie alla sinergia con Wordpress va completamente un po' a modificare, a rivoluzionare l'idea di Wordpress iniziale. Invece nel video di oggi andremo a vedere un pochettino altre risorse che possiamo utilizzare all'interno del sito di Elementor per capire sempre un po' di più, per restare aggiornati e per non perdersi nulla per quanto riguarda questo mondo. Direi quindi di non perdere altro tempo e andare a vedere queste risorse. Andiamo immediatamente a parlare delle risorse di cui ho anticipato poco fa e prima tra tutte parliamo del blog. Il blog ci consente di restare aggiornati, abbiamo le ultime notizie, abbiamo un sacco di informazioni e guardate un po' al momento della registrazione di questo video quante pagine di blog che abbiamo, quindi quanti articoli di blog. Non solo, abbiamo un sottomenu per quanto riguarda il blog dove possiamo vedere soltanto gli articoli filtrati per determinate categorie. Quindi, non lo so, per esempio abbiamo i casi studio, quindi possiamo andare a vedere un pochettino che cosa è successo. Per quanto riguarda il mondo di Elementor e magari altre aziende o per chi ha utilizzato Elementor o che cosa è successo. Per esempio, sono aumentate di oltre il 700% le conversioni di questo sito grazie ad Elementor. Oppure, se stiamo cercando di capire qualcosa di più o di muoverci per quanto riguarda il design, ecco che abbiamo articoli che riguardano soltanto il design. Quindi abbiamo, non so, magari avremo tutorial, indicazioni, abbiamo un po' di tutto, abbiamo diversi articoli di blog che ci spiegano di tutto e di più. Abbiamo anche una sezione relativa al marketing, una sezione relativa agli sviluppatori e al business e una sezione relativa a Wordpress. Quindi qua, come potete vedere, ecco, qui siamo nel reparto marketing. Per esempio, non so, abbiamo un articolo che riguarda Elementor e la SEO, come ottimizzare il nostro Elementor per quanto riguarda la SEO. Naturalmente, migliorare la SEO implica anche migliorare il marketing. Poi abbiamo, appunto, anche qua di tutto e di più. Per quanto riguarda il blog, quindi è un'importante, diciamo, risorsa il blog, è un'importante punto di arrivo e ci consente di restare sempre aggiornati, ci consente di capire in che direzione si sta muovendo Elementor, quali sono le novità relative a questo mondo. Può aiutarci a capire se abbiamo dei dubbi, delle incertezze sull'utilizzo di Elementor. Quindi quella che è la potenzialità, effettivamente, di questo plugin e può anche aiutarci, perché no, attraverso, diciamo, degli articoli tutorial a imparare cose nuove per quanto riguarda sempre questo mondo di Elementor. Un'altra risorsa importante, secondo me, per iniziare è quella che riguarda i webinar. Abbiamo, infatti, dei webinar, non tantissimi, però molto, molto approfonditi. Uno tra tutti che voglio far vedere è, per esempio, come creare una landing page con Elementor. e abbiamo la bellezza di un video su YouTube della durata di un'ora. Quindi direi che quantitativamente magari i webinar possono non sembrare molti, ma diciamo che possiamo avere un gran tempo per... Abbiamo necessità, magari, di tanto tempo per andare a capire questi webinar, per ascoltarli, per vederli. Sono molto, molto interessanti anche questi. Ci aiutano, soprattutto, appunto, a muovere i primi passi e a iniziare, anche perché no, un po' ad approfondire sempre di più quello che è l'ambiente in sé di Elementor. Direi che, per quanto riguarda le risorse, abbiamo già visto nei video precedenti tutte le altre risorse di cui non ho parlato oggi, quindi l'App Center, i Developer Tool ed il supporto. Oggi ci siamo soffermati sui blog e sui webinar, ultime due risorse, ultimo e ma non ultimo. Direi che, per quanto riguarda le risorse, per oggi è tutto. Bene, mi auguro che tu abbia trovato utile questo video. Se comunque hai dei dubbi o hai delle domande, lasciami le scritte qua sotto nei commenti, in modo tale che posso darti una mano per quanto più possibile. O se ancora stavi cercando qualche approfondimento relativo al mondo di Elementor, WordPress, WooCommerce, Temi, Plugin, espulciando all'interno del mio canale, non hai trovato quello che cercavi, lasciami anche questo scritto qua, qua sotto, così che magari posso trovare qualche altro nuovo spunto, o qualche altra nuova idea, per qualche altro video di informazione, proprio come quello che hai visto adesso. In ogni caso, comunque, se questo video ti è piaciuto, metti mi piace, attiva la campanella qua sotto e seguimi nei prossimi video. Ciao!